buongiorno l'esercizio di oggi ci insegna a portare l'attenzione sulle cose positive che facciamo mi chiedo se le fate senza attenzione o se come me vi date una facca sulla spalla e quando fate di una bella cosa vi dite brava hai fatto un ottimo lavoro per oggi quindi fatti un complimento per una cosa che hai portato a termine non è così scontato sai significa dire a se stessi che ci vediamo e che ci riconosciamo e ci permette di liberarci dalle dipendenze legate alla ricerca costante del riconoscimento altrui allora da oggi ogni volta che fai qualcosa di positivo fatti un complimento e se qualcuno te lo fa a sua volta accettalo proprio con gratitudine la gratitudine è molto molto potente e porta tantissima abbondanza e i complimenti sono doni di prosperità ci vediamo domani con il giorno 14